De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Cozmo, cosa ti prende ora? Niente, che fa freddo qui? Tra poco Due fantagigenitori Su Fresbi Alphabots Mission Galaxy Trasformazione Attivare le nuove dotazioni semi-trasparenti Pronti all'azione Un messaggio in codice Procedo alla decifrazione Uniamo le forze! Alphabot Mission Galaxy! E' dei Vals Collection! Spaziale! Buongiorno, cari! Vi ho portato i biscotti! In questa giungla non c'è pace! Voilà! Le macchiale, le crocchiale, le grucciale! Le grucciale, un par di zebbre! Mamma, mamma, noi vogliamo le gocciole! Le gocciole! Solo con l'energia e tutto il gusto delle gocciole pavesi! Trasformi la giornata da così a così! Gocciole pavesi! Partire col più gusto! E se trovi il biscotto zebrato? Vinci subito un iPad 3! Gli amici non si contano con Trendy You Forever! Più ne hai, più si vedono! Simpatia, amicizia e amore! In ogni bustina due braccialetti! Uno per te, l'altro per chi vuoi! Ti amo, je t'aime, I love you! T'è chiaro! Trendy You Forever, in edicola a 1,90€! Calzature e abbigliamento Primigi, nei migliori negozi per bambini e in tutti i Primigi Store! Primigi, un'avventura straordinaria! Cani e gatti veri amici! La collezione che mette tutti d'accordo! Apri le bustine e scopri tutti gli amici a quattro zampe! Tantissime figurine da collezionare! Non perdere le veloze, le attacca stacca! E cerca le quadrotte che si illuminano al buio! Cani e gatti veri amici! Non si è mai vista una collezione così! Ehi, cos'è? Non so, lo scopriranno tra duemila anni! Big Bubble Gladiators, altro che la solita storia! Ci sono le nostre figurine! E non perderti le nostre avventure! Gladiatori di Roma, al cinema dal 18 ottobre! The Amazing Spider-Man! Scopri come tutto è iniziato! Con le nuove Laming Cars sfida i tuoi amici in battaglie emozionanti! Cerca le Laming Cars speciali e collezionale tutte! In edicola trovi anche la collezione Spider-Man 3D con le nuove pose! The Amazing Spider-Man! Cabeta Moderna! Lo scopri come le nuove! 是parei il compagnie! Bbbi机! P доб competition della selezione? Fricaca in Treba! Behama me! Saperei il compagnie! Hoessant ultime è solo il colio ora che non fa tuoi e nuve le giole smi uts che come. Hoeljmassa diet d'un progetti risotto da l 24 che prendate joule insan e il scor Chi greed vuono è solo il progetti affincitoetera l тамhur solche basi che si fum strangers in din races après notified